musica musica e iniziamo, perfetto allora, un benvenuto a tutti in quello che dovrebbe essere il centoventordicesimo episodio di questa simpatica stagione di Geekbattery versione 2.0 punto Elisabetta e Cula grazie e salutiamo anche Wimbor da qualche parte sul server ciao Wimbor ok, ok, ok basta, stanzate dunque oltre a prendere per il culo Elisabetta e a salutare Wimbor l'idea principale di questa simpatica giornata di lavoro su questo simpatico server con questa simpatica gente è la seguente due punti virgola a capo dunque, noi abbiamo sviluppato in generale alcune mod di più, alcune mod di meno però come potete ben vedere noi abbiamo prendere tutti i macchinari base della Thermal più alcuni che sono già un po' più avanzati tipo l'Induction Smelter il Magma Crucible il Fluid Transfuser che sono quelli un po' più fighi per fare le cose figherrime e poi della Played abbiamo ancora l'impiantino base del cazzo e della Mechanism l'ultima volta anche se c'è stato poi quel problema tecnico-tattico che mi era saltato la registrazione di un episodio ma dopo l'ho recuperata l'episodio scorso con Max Carb purtroppo e Jolly Ints e niente praticamente adesso tralascio temporaneamente un attimo l'Alloy Smelter il Sagmil della Ender IO intanto potrebbe sentirsi tipo nel mio microfono un tuono ma non ne sono convinto adesso vediamo un attimo poi a fine registrazione se c'è o almeno non è che sta piovendo sta direttamente venendo su una tempesta tipo pioggia grandine e tipo mi sta per rovesciare una pianta che ho in casa e adesso ti esplode il computer? avrei tipo una cosa come tre gruppi di continuità che lo tengono su quindi dubito che mi riesca ad esplodere meglio al massimo mi devo tipo bloccare la registrazione ma che bestemmia solita roba insomma solite cose dunque a parte quello voglio dire che la cosa che mi serviva principalmente è dato che abbiamo un macchinario della Mechanism che praticamente è quello che triplica il per tre la roba che sarebbe il Purification Chamber che funziona con l'ossigeno eccetera eccetera l'unica cosa è che questa roba qui praticamente andrebbe messa in un maceratore perché l'osnum clamp della Mechanism non è possibile cuocerlo direttamente quindi di conseguenza se non mi esplode casa più o meno perché mi sta accadendo cose stanno picchiando persone e tipo sbattono le porte quindi mi fermo un attimo e torno tra due secondi rieccoci qua scusate per l'interruzione ma purtroppo siamo in estate e di solito in estate ci sono delle cose chiamate temporali quindi di conseguenza se c'è un temporale sbattono le porte perché c'è il vento più forte e quindi di conseguenza purtroppo ho dovuto sospendere la registrazione comunque dettagli tecnici a parte dicevamo ufficialmente ah per la cronaca mi sono dimenticato di dire che nel frattempo è saltato fuori uno crama selvatico cosa? il che modo usa bestemmia è super efficace ok a parte le stronzate così andiamo avanti se no poi ci perdiamo in fronzoli ciao max dunque eh 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 che battutone eh 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 ok basta oh mio dio dovrei piangere pensavo puntassi direttamente al suicidio però se vuoi piangere fai pure allora dicevamo parliamo di cose serie dunque noi dobbiamo principalmente in questo pseudo episodio sviluppare l'induscraft con i macchinari avanzati perché ci serve il maceratore quello iperfigo quindi il maceratore quello iperfigo non so neanche dove cazzo è maceratore iperfigo electric furnace macerator compressor recycler magnetizer che potrebbe essere carino electrolyzer che è anche quello carino pompa miniera cioè miniera miner advanced cazzi e mazzi induction furnace mass fabbricate allora induction furnace non so se c'è una di quelle avanzate che ci servono quindi penso che tipo la troverò proverò ad usarla o craftarla poi ci servirebbe induction furnace mass fabbricate le dopo terraformer le dopo thermal centrifuge no metraformer dove sono finiti mi sono persi mi sono persi i cosi scusate qualcuno mi sa dire dove sono lì gli oggetti avanzati dell'industria che me li sono persi no perfetto generator geothermal watermill mi serve il quello ipercazzuto quello che macerà il mondo macerator extractor rotary si esiste rotary macerator edo che non lo trovo allora rotary ah eccolo qua ah perché è come ic2 non è come in dustercraft io ho scritto in dustercraft per trovarlo dunque eccoci qua il rotary macerator salve sono il rotary macerator e per craftarmi mi serve un maceratore un advanced machine casing dell'iron plate due coil e un electric motor che cazzo si fa electric motor ah una strontata e poi cosa mi serve ancora l'advanced machine coso mi serve l'carbon plate l'advanced alloy che si fa con force plate iron plate e tin plate così ce ne abbiamo di più eh tanta roba allora partiamo dalle cose base tipo prendiamo il carbone coal facciamo fintre niente ne prendiamo 64 di ignoranza li buttiamo nel pulverizer e che c'è dio e che dio ce la mandi buona e possibilmente con uno crama in nanotuta eh cosa cazzo ci fai crama qua eh sì non vale a me vado a fare una cosa sopra non lo fai pure nel frattempo dunque oltre a quello ci serve i alloy gli alloy che non mi ricordo quali servivano già allora ci serve iron plate force plate e team plate quindi è iron iron che ne prendiamo solo 32 poi ehm force che ne prendiamo tipo 16 e però ci serve dell'iron insieme alla forza no prendiamo del cos'è che abbiamo in abbondanza copper ne abbiamo 900 tin ne abbiamo 800 e iron ne abbiamo 800 ok prendiamo il copper usiamo uno stack no mezzo stack di copper con 16 di force gem per fare il nostro simpatico coso iron figo insomma quello no e poi ci serviva il tin tin me ne dovrebbero servire 32 poi il resto si vedrà allora iniziamo a fare il copper shiftato così e così no non era così scusi come si funziona scusi lei come funziona allora mi serve esattamente allora funziona con l'iron con il gold col tin con il bronzo con il dart iron con il silver e con lo steel perfetto posso l'unico fottutissimo materiale che non si può fare cos'era un tuono infatti sono rimasto un po' di merda non me lo aspettavo così potente quindi cos'è che mi serviva oh no ho sbagliato allora aspetta un attimo faccio così facciamo così quindi il copper non possiamo usarlo ma useremo cosa cazzo usiamo che non eh allora questo tu ancora cioè ma non so ma si sentono bene queste tuonate che arrivano si bastonza queste due steel prima nella tua parte della gestazione no non l'ho sentita no adesso ho paura che si sentono fin troppo bene adesso allora steel silver beh dart iron che non so come si fa bronzo ho sbagliato cliccare porcaccia di quella vacaccia e no facciamolo con l'iron e buonanotte ehm a meno che non ho chilottoni di gold ma no non solo 300 quindi produciamo l'iron usiamo il nostro iron perfetto iron ehm l'altro tincerò quindi stavolta siamo veramente a posto allora uno qui uno di qua questo di qua e abbiamo il forcingot e vaffanculo no ne ho fatti 64 sbagliato vabbè vaffanculo non mi ricordo mai che qua nella in questa fottutissima mc terminal eh se tu fai shift click non ti mette solo la quantità che tu hai desiderato ma te ne metti tipo eh quella che lui ha in memoria nel tutta quella che ha in memoria nel nell'impianto comunque allora quindi ce ne cessiamo alla metà quindi 32 di tin 32 di iron e 32 di force che non fa mai male allora intanto abbiamo il pulverized coal con un residuo di 7 di zolfo che buttiamo dentro con l'impianto che non ce ne frega niente eh e facciamo i eh cosiddetti raw carbon fiber cazzi e mazzi ne facciamo 16 e ci troviamo con eh 8 carbon mesh una volta che abbiamo i carbon mesh li andiamo a buttare brutalmente ehm se vuole collaborare il nostro extractor compressor li buttiamo dentro il compressor e ci da i la fibra di carbonio ipercazzuta intanto nel metal former andiamo a buttare dentro il force ingot che dovrebbero diventare delle plate vediamo un po' se viene giusto se c'è qualche errore di ID no force plate perfetto e poi andiamo anche a appiattire l'iron e il tin eh spero che fossero così aspettate che controllo allora dove sta eh rot no perché mi si è bloccato l'anel uff che palle allora rota ri allora ci serve l'iron plate ok le sto facendo eh l'advanced machine casing è in fase di produzione ah potrei fare un basic machine casing nel frattempo ah no che si fa con l'iron plate ammazzati eh poi i coil si fanno con i cavi del un isolated copper cable che però devo usare la la plate l'iron ingot e eh l'electric motor che si fa di nuovo con i coil il tin item casing e un altro tuono no era più piano però era più cupo era un po' più cattivello sto tuono ehm comunque eh eh no niente adesso devo aspettare un attimo che si produca tutta sta roba eh massimo posso iniziare ad andare a prendere qualcosina di qua vediamo cosa offre la ditta allora vediamo una ma chi è che si mette a tagliare l'erba adesso del giardino non ci credo sì io non sento nulla sotto i tuoi ma meno male quindi magari non si sente neanche registrazione allora aspetta un attimo eh per ehm cosa che mi servono i lingotti di ferro per fare i coil giusto? teoricamente sì bom prendiamo sei di questo ehm poi prendiamo ancora del tin perché dobbiamo fare le plate ah no ce l'ho già tin plate ne ho già quattro fico e invece poi mi serve il copper i fili di copper ne ho solo tre me ne servono di più quindi niente mi faccio anche un po' di fili di copper grezzi vediamo un po' che punto siamo se no mi sa che minchia che lampata che ha tirato beh eccolo questo si sentite questa era pesante yeee cioè considera che è giorno o sono riuscito a vedere il lampo di giorno cioè c'è la luce fuori cioè come c'è il riverbero del sole sono riuscito a vedere un lampo è una cosa che deve essere caduto penso a mezzo metro di distanza no a mezzo metro no però mi sono cagato ad osso oh no no ichi eh a volte capita intanto nel frattempo inizia a piovere allora il compresso era finito intanto e noi dobbiamo aspettare per il metalformer quindi ehm non ho molto da fare quindi eh qualcuno ha qualcosa da dire nel frattempo per intrattenere il pubblico bella cavalla miglione tera 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 qualcosa di serio? maria non c'è chi ciao anche per la cronaca e io devo aspettare per sopra per me non lo fa e' un guardo bai bai sopra dove scuola e non lascia perdere perchè il quarry stavamo cercando tipo la pista non la pista è una cosa per max e ma se c'è detto guardate che quella determinata gemma che a me serve è praticamente fuori casa vostra perchè è dentro il bioma delle mangrovie l'avevi trovata che bello avere la compagnia dei tuoni ehm no praticamente cosa hai detto di venire di sopra o cramma scusa cosa hai fatto di sopra guarda dove stai? di sopra dove scusa sopra tu visto tu visto passare ma non tu visto dove sei andato a che piano sopra te l'ultimo ah sul tetto eh sopra te l'ultimo aaaaaah e' bravo cramma che ha fatto ma è quello della lola ma vaffanculo non era così non era così ehm no ehm pym open perifragge addons ender chest blu 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 che istone l'attimo eh ehm come che come funziona sta merda ora rispiro tutto e ricordati di fare se riesci fai i due nexus diversi ah diversi ci vuoi? eh si grazie al cazzo così funziona anche di notte il portale scusa ma è ronco non è entrato non è entrato non era così ma mentre tipo tu sei lì che fai cose picchi persone e costruisci oggetti vado giù a vedere se è finito eh ieee frena 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 madonna che rischio mi son trovato a mezzo centimetro da spiaccicarmi per terra cos'è che devo appiattire il lyron adesso? boh forse si intanto in questa crafting table laterale possiamo impostare già il crafting tipo a random di adesso è eh giorno mi sembra scusi che tempo fa là fuori? eh giorno su minecraft è giorno e non piove da me sta diluviando però non tuoi cioè si sono attenuati i tuoni non so se è un bene o un male tanto lì sta andando intanto andiamo a trovare lo crambo ma vaffan torno giù ok siamo qua da basso attendiamo con ansia o con ansiolitici il completamento dell'operazione minchia come è lento vabbè aspettate facciamo che arrivo a 6 se no non andiamo più avanti speravo fosse leggermente più veloce il nostro metalformer oggi invece mi sa che è un po' sottotono allora sottotono sì esatto ah che battuta del cazzo all'iron andava sopra se non mi ricordo male e sotto ci vanno i pezzettini di tin c'è un colore per la che ti rappresenta grigio o è troppo o bianco o grigio cioè il vestito di assassini è quello non c'è molto da giocarci sopra grigio va bene grigio grigio ancora grigio non si può fare grigio basta bianco mi spiace come si può e invece grigio chiaro la mia invece va te la fanculo no volevo dire che altro posso mettere che colore ci sono disponibili scusa ho fatto bianco ah bianco va bene ok ci sta comunque nel frattempo sono uscito mentre tu mi chiedevi il colore sono uscito a fare il famosissimo mixed metal ingot dell'industri craft che butterò dentro il compresso per farò diventare un plate di sta ceppa una roba del genere dunque qui abbiamo altre tre plate di tin però a me servono le plate di iron per fare i machine casing base quindi muoviti cazzo muoviti qui c'è gente che non ha tempo da perdere ok ho finito tanto se volete salutare l'altro tuono ok aspetta che mi sta arrivando il secondo advanced alloy dai dai pochi secondi dai ce la facciamo ce la facciamo dai e beh ok ce l'abbiamo fatta ok possiamo iniziare il non è vero perché ci manca l'iron ancora porca di quella troia siamo solo a quota tre iron plate purtroppo ce ne sono tipo otto ok questo coso qui è occupato anzi no aspetta questi qua sono iron plate uno due tre perfetto quindi ce ne manca solo più uno adesso eccola qua fatto togliamo questa merda allora machine casing okrama ammazzati l'ho letta allora abbiamo il basic machine casing dal basic machine casing ci mettiamo due carbon plate uno sopra e uno sotto e due advanced alloy uno a destra e uno a sinistra potete anche invertire gli oggetti che ve la prende lo stesso come ricetta abbiamo l'advanced machine casing dunque una volta fatto l'advanced machine casing non mi ricordo più come funziona allora rotary macerator ci serve ancora dell'altro iron plate un maceratore base porca dico la troia l'ho dimenticato i coil che si fanno con il coil e cosa ok perfetto quindi devo fare del allora iron plate ce ne siamo ancora un po' purtroppo muovete siamo qua da sei non ne ho altri persi per l'inventario no peccato sette dai ancora uno ancora uno ce la puoi fare io confido in te credo nel cuore dell'iron ah no scusate mi sto confondendo un po' di cose credo di sì allora adesso mettiamo un attimo l'extruding per farmi un paio di cavetti di rame che l'extruding non so per quale motivo è più veloce del plating ok basic machine casing l'abbiamo fatto per il macerator ci dobbiamo fare l'elettronic circuit e vai corri 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 che cazzo hai fatto qua ah hai fatto i cosi ah ciao to one dunque cos'è che ci mancava adesso il circuit eccolo qua elettric circuit vediamo un po' se riusciamo a farlo non ce la facciamo perché ci mancano i ci manca il copper no veramente ne abbiamo tre tre di questi ci manca la rubber vediamo un po' se ce l'abbiamo rub eeeh oh cazzo ci manca di nuovo la rubber ok prendiamo il rubber wood della indassa il craft vaffanculo e li andiamo a buttare dall'altra parte corri devo farmi la nanotuta extractor dove è extractor ah no ne ho già 17 qua che culo via ok dicevamo eeeh mi sembra non so ho come l'impressione che mi stia prendendo per il culo il tempo oggi senti che tuone che tira cazzo cioè ok ma a me piacciono i temporali però cioè mi sembra che stia un po' esagerando adesso non vorrei dirlo non è che voglio contestare tutto però ok due circuit cazzo e mazzi li abbiamo fatti non mi ricordo più che cazzo stavo facendo eeeh dunque dicevamo dobbiamo fare ah qui ho estruso un po' di cavi allora dovrebbe esserci tipo una cosa come 4 coil da fare io ne posso fare soltanto 3 porcaccia di quella vacaccia quindi vai ad estruderti ancora un po' devo fare il macerator di base quindi è basic machine casing electronic circuit mi mancano 3 di flint che ho dall'altra parte tanto per cambiare devo mettere un kart che fa ping pong tra i due macchinari ce la faccio prima cos'è che mi serviva non mi ricordo già più il flint flint una due tre di flint il coso qui il basic qui in mezzo e ci serve del copper la perfetto macerator l'abbiamo fatto quello di base poi ufficialmente cosa ci manca ancora allora esco un attimo da qui avremo in inventario normale se no non riesco a cliccarci sopra, due Iron Plate, due Coil, Tin Item Casing e altri Coil. Io vorrei sapere perché quel rompicoglioni di Gregorius è andato a collaborare con quelli dell'Industercraft. Non poteva tenersi al suo Grektek nel suo angolino e non rompere i coglioni alla gente? No, veramente. Dovrebbero bastarmene solo due, se non mi ricordo male. Se ne erano di più non lo so. Dai, eh? Dai! Ce la puoi fare! No! Conflitto di D, non posso fare niente. C'è un conflitto di D tra l'Empty Cell e il... per fare i Metal... scusa, eh? Allora... Adesso vediamo un attimo se c'è qualche problema tecnico. Legonic Science. Ah no, ok. Sono cretino io. Perché ho fatto extruding, anziché fare... rolling. Sono scemo io. Niente. Eh, mi sono confuso con... con i... di... di cose, i disegnini. Mi sono indicato di svicciare. Ok, T-Nit, T-Nit Item Casing. Mi ero già dis... mi ero fasciato la testa per niente. Ok, dunque dovrebbe essere così e abbiamo fatto il motore con... Praticamente, l'Iron Ingot in mezzo, il T-Nit Item Casing sopra e sotto e a destra e a sinistra due coil. Una volta fatto quello, mettiamo il motore in alto, i due coil a destra e a sinistra, se non mi ricordo male, l'Advanced Machine Casing in mezzo, il Macerator sotto e ci serve ancora qualcos'altro. Sì, le Iron Plate che mi sono di nuovo dimenticato di fare. Atteniamo le Iron Plate, intanto verifichiamo la ricetta, che stavo già sbagliando perché il Macerator è in mezzo e l'Advanced Machine Casing è sotto. Quindi switchiamo così e attendiamo il Metal Former. Nel frattempo che attendiamo il Metal Former, possiamo fare che prendere una leva per tenere poi sempre attivo il nostro maceratore. Così qualsiasi roba che ci mettiamo dentro ce la macera in un nanosecondo, tipo. Corri! Ah no, non pioceva, non pioceva, non opioceva, non pioceva confetti, non pioceva Aia, porca... Allora, Iron Plate... Ce l'abbiamo fatta! Un episodio intero per fare un fototissimo Euro 3 ma se le Ritori. Ah, seguimenti di toglierla con la car Gia, la voce, la artificialità. Ca' si si dimentichi che ti toglierla con la bianciata. Ah, seguimenti di toglierlo con la bon Atlanta. con no no ok è rimasto intero a una interfaccia diversa per la vostra roma e la serie spiegato quindi ho fatto tipo così ero attivo per frico e quando ci c'è di corrente dei miei macchie dei miei cosi della cosa dietro ho proprio un sacco ah non riesco a vedere perchè devo fare il giro da sopra aspetta 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 beh ormai sono già ah ok ci c'è tanto ma vaffanculo mi ha appoggiato una leva dove non doveva appoggiarla ci c'è tanto no sono stabili ma non c'è una batteria no devo ancora farla questa devo ancora farla batteria ah però c'è un problema si scollegano i cavi della meccanism facendo così mmm che merda che merda si scollegano i cavi della meccanism quindi devo trovare un altro modo per attaccare il maceratore cling così invece si scarica vediamo un po' se si guarda se sono collegati i cavi qua dietro no ma porca di quella scusami è così no no cosa hai fatto cosa hai fatto eh no eh grazie cazzo ho staccato la leva vai stacca la leva aspetta eh un attimo vediamo se no no va bene niente eh ma volevo dire se era il segnale di redstone o l'impulso di redstone no no era il ehm e mo come faccio adesso? faccio da qua? guarda si sono attaccati dietro si sono attaccati sei sicuro? eh non mi fido ok è attaccato più online ma ma cosa se non mi fido? se la brutta persona è chiusa ehm no stavo pensando adesso devo tipo bucare qua sotto e fare una cosa bruttissima che non si dovrebbe mai fare io la metti sotto eh io la metto sotto no sono ancora collegati? si tutto a posto? siamo salvi? siamo sopravvi ma perché è un bicicletta di macchina? non si fida di più con l'amo io non mi fido di nessuno oh guarda un messicano abbiamo trovato un buco nel pavimento cluc cluc via ah i cavi li vado a collegare di qua che dovremmo essere apposto uno e uno due ehm direi che abbiamo completato con successo un primo macchinario avanzato dell'industria se ci mettiamo così per tutti gli altri episodio non finiamo mai più uno per l'episodio praticamente eh sì no ma adesso mi organizzo grazie al cazzo cioè nel senso capisci no che eh vado inizio a spiaccicare dell'iron intanto salutiamo e poi faccio il prossimo episodio non vuoi vedere cosa che ho fatto sopra? eh? cosa che ho fatto sopra? eh no dobbiamo lasciare la suspense per l'episodio dopo crama giusto quindi eh per il momento salutiamo eh cosa? chi cosa? che cosa? eh? eh? eh business eh business per il momento stavo dicendo salutiamo eh chi è stato con noi e chi vorrà starlo vorrà starlo vorrà starlo vorrà starlo ma porca di quella l'italiano di Iki yeee il messicanesimo colpisce ancora ehm ringraziamo chi è stato con noi ovvero sul server il signor Okrama e e il signor Vimbor che sono cioè Vimbor penso sia sparito da qualche parte sì Okrama è qui che sta correndo come un dannato e chi è stato su TS ovvero la ehm Miss Elisabetta Stalker Leone eeeh ciao ciao dai non ti vuole nessuno sono tutti cattivi me ne vado basta ciao ciao ehm ok con questa notizia bomba ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti ciao